ah la chiesa di padre campbell eccoci tutti insieme guarda che bel mai ecco intervento corrotto comunque sai che sento dopo nel sul palato sul palato sulla sulla punta della lingua sotto il palato sento quel saporino di dbd un po antico e diciamo un po vintage sta funzionando sì perché stanno funzionando questo studio di build abbiamo messo un aggiornato alla fine qui lo dico e qui la perdiamo però ecco qua è la vomitina infatti ok allora se si è messo intervento corrotto potrebbe essere una vomitina baby che solo con i perché della vomitina infatti c'è la skin base quindi non è detto che sappia usarlo la bene quindi noi facciamo i gen e andiamoci nel più in fretta possibile vedo che c'è una nuova icona a fianco a chi è sbomitato c'è un fiore di arriva 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 lascia vuole me dude mi hai rotto proprio i coglioni eh vieni qua vieni vado sopra no chi si è buttato giù pensavo fossi entrato mi stessi seguendo mi sono fatto un film a luce incredibile io ho sentito sto raggio di terrore fortissimo no madonna ho saltato la finestra ma l'ho saltata la finestra però questo non mi gusta dude eh no questo non mi gusta però scusami ce la fai a portarmi nel basement si vabbè vabbè sto curando eh allora un tizio sta facendo il gene c'ha il potere potente mi vengono a salvare buon rotine levati mi fanno fan tunnel eh ok sto dentro l'edificio mi hai lasciato a fare il gene fai fai il gene non stava seguendo me forco cazzo si arola che sfiga ho avuto non stava seguendo me non stava seguendo me vabbè è il secondo che atterra così eh in stesso modo il mio primo e torno nel basement non stava seguendo me è passato quello a fianco a me vabbè ha visto me ha scelto me sfiga 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 ottimo ci avrebbe un terzo gen adesso le poppa eh lo sto facendo ma mi sa che devo lasciare per venirti a salvare stanno venendo stanno venendo che hai partito siete in due su un gen uno è in seguito adesso e uno sta venendo a salvarmi occhio solo se questo non te lo porta in chiesa ma non penso lo sta portando ok perfetto che hai partito vai verso la tua sinistra ma la sono fatta mamma mia arrivo dimmi eh ma non ti so più dire la direzione c'era il gen che stava facendo quella che ora l'ha lasciato ma ti hanno salvato questo apposto si ma è tornato a prendermi ho trovato il gen almeno lo chiudo ok tu te dalle a me la fontana io sono due uncini ma sei un egoista intanto così diamo il potere ma che dobbiamo fare vuole me non mi infettare di nuovo ok ok faccio l'ultimo geno qua e lascia 35% sto in un angolo mappa mi hai visto vado giù mi levo dal cacchio va verso i due insieme grande la sita non mi ha detto mappa mappa non mi ha detto non mi ha detto non mi ha detto Merda Che vogliamo fare? Sono andato a fare il save O il primo uncinato Così almeno tu provi l'uscita Magari la distraggo Questo uncino, lei viene qua Ok, via Sto a metà Spero non venga da me Apro, apro, apro Aspettiamo gli altri? Com'era il nostro motto? Sta arrivando Eh vabbè Moriamo? Come cazzi? No, io non muoio, io non muoio È una partita un po' Un po' me Dai ragazzo, dai Ma ci odieranno questi Eh vabbè tutti Però che succedere? Capita molto spesso a noi Grazie a tutti Grazie.